Sto scrivendo qualcosa all'interno di una cella. Come faccio ad andare a capo? In Excel. Lo vediamo dopo la sigla. Invio non funziona. Shift più invio che funziona in tutti gli altri software e in tutti gli altri servizi online. Qui non funziona. Cosa devo premere? Devo premere Alt più invio. E vado a capo. Fatto. Ed ecco qui come mi visualizza la cella. Se non la voglio visualizzata così, non posso fare doppio clic per ridimensionarla da qui, ma posso premere qua su testo a capo e toglierlo. Questa è solo un'opzione di visualizzazione. In effetti la capo rimane all'interno della cella. E infatti quando ci esco me lo mostra. Ripremendo qui su testa a capo, semplicemente me la visualizza in questo modo. Per oggi è tutto. Il video è stato breve e semplice. Spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se è così, invialo a qualcuno che conosci a cui potrebbe essere utile. Alla prossima è stata escritta. Alla prossima è stata da qui.